La storia si ripete, un'altra auto con la barriera metallica del guardrail conficcata nell'abitacolo. L'incidente si è verificato lungo la tangenziale est all'altezza dello svincolo per l'uscita 7. Per causa in fase di accertamento una Peugeot 208 è andata a impattare contro il guardrail, illesa la passeggera mentre per il conducente si è reso necessario il trasporto in ospedale con ambulanza. Il sinistro non ha visto coinvolti altri veicoli. Nella stessa uscita nel maggio scorso si è verificato un altro episodio identico altrettanto spettacolare. La struttura metallica ha attraversato il vano motore della vettura e parte del parabrezza e solo per miracolo non si è verificato. Una vera e propria tragedia. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale chiamati ad effettuare i rilievi. La tangenziale est è stata infatti teatro spesso di incidenti che hanno visto lo spuntone in ferro, provocare feriti e in alcuni casi anche la morte.